Ciao, sono Antonio Giudice, sono qui a rappresentare il museo dell'informatica funzionante di Palazzo Lacreide e il museo interattivo di archeologia informatica di Cosenza, siamo qui a partecipare a questo evento e a contribuire all'e-speech e all'esposizione, ci occupiamo di restauro, di recupero e di attività di mostre interattive e di attività legate all'informatica storica in particolare, teniamo molto a collaborare e a creare rete con le altre realtà simili della nostra e ci fa molto piacere contribuire a Bit of History che è un evento che apprezziamo.